Per la politica nazionale, Giuliano Amato è il nuovo Presidente della Corte Costituzionale italiana. Per la serie a volte ritornano, è infatti Giuliano Amato il nuovo Presidente della Corte Costituzionale, nato a Torino 83 anni fa, professore e merito di diritto pubblico, comparato e più volte ministro, ha l'attivo due mandati da Presidente del Consiglio dal 92 al 93 e dal 2000 al 2001, nominato dall'ex Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano il 12 settembre 2013, Amato è il giudice costituzionale con maggiore anzianità, le parole di Amato dopo la sua elezione. In conferenza stampa, Giuliano Amato ha detto, è un fattore essenziale la collaborazione tra la Corte Costituzionale e il Parlamento, in questi ultimi anni la composizione dei contrasti è diventata ancora più difficile che in passato. Il principio importante per Amato, il nuovo Presidente della Consulta, ha poi aggiunto, sono questioni su cui la Costituzione dice chiaramente che la soluzione oggi esistente non va, ma non indica la risposta. Ed è qui che la collaborazione tra la Corte e il Parlamento diventa un fattore essenziale, un avvoggiato. Noi indichiamo al Parlamento come intervenire, ma se non lo fa, rimaniamo in questa situazione. Fatto sta che dal cognome della madre e del padre, all'ergastolo o stativo, al suicidio o assistito, noi rimaniamo con le nostre soluzioni, che sono corrette ma saremo molto più contenti se fossero seguite da un intervento del legislatore. Serve una collaborazione più funzionale tra la Corte e il Parlamento, ma trovare un punto di equilibrio alla sua difficoltà. E da un intervento del legislatore. Serve una collaborazione più funzionale tra la Corte e il Parlamento, ma trovare un punto di equilibrio alla sua difficoltà.